Bitcoin ci ha abituati a credere nell'impossibile. E quindi è possibile che un bitcoin varrà 100.000 dollari entro la fine di quest'anno? Ragazzi avete capito bene? 100k per bitcoin entro la fine del 2019. Valutiamo in questo video questa possibilità davvero incredibile confrontando un post fatto 5 anni fa sulla piattaforma Reddit da un utente che si definisce essere un viaggiatore del tempo tornato indietro dal 2025 e una parabola che catapulterebbe il prezzo di bitcoin proprio a 100k entro la fine di quest'anno. Quindi valutiamo insieme oggi questa incredibile possibilità. Non dimenticate di lasciare un mi piace se volete anche voi 100k per bitcoin entro la fine di quest'anno iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Ragazzi questo è un post che vi linko in descrizione, ne ho già parlato diversi mesi fa è molto interessante speculare su questa possibilità logicamente più fantascientifica che reale ma che vale la pena considerare. Questo è un post come vi dicevo del 2013 di quest'utente che dice di tornare indietro nel tempo dal 2025 e fa delle previsioni sul prezzo di bitcoin che fino ad oggi si sono sempre avverati. Infatti quest'utente racconta che nel 2015 bitcoin sarebbe arrivato a 1000 dollari cosa che è accaduta nel 2017 a 10.000, nel 2019 a 100.000 e dentro il 2021 1 milione di dollari per bitcoin. Logicamente il seguito del post è in qualche modo un avvertimento per la popolazione mondiale perché questo tipo di crescita così incredibile avrebbe portato diversi scompensi a livello sociale e politico all'interno del sistema pianeta terra sostanzialmente. Quindi tralasciando queste conseguenze di cui tutti dovremmo avere a che fare sicuramente tra qualche anno la cosa interessante è il motivo per cui viene dato credito a questo post è che in questo momento fino ad oggi quest'utente ha azzeccato due previsioni su quattro quindi 1000 dollari per bitcoin nel 2015 cosa che è accaduta vi ricordo che il post è del 2013 10.000 nel 2017 poi ci sono altre due previsioni 100.000 nel 2019 e 1 milione nel 2021 ma andiamo a vedere il grafico se c'è qualche tipologia di parabola che ci porta e che ci catapulta direttamente a 100k entro la fine di quest'anno e questo ragazzi è quello che ho disegnato quello che ho trovato una parabola con diversi punti di contatto che casualmente va ad incrociarsi con il livello prezzi dei 100k proprio il primo gennaio 2020 vi mostro esattamente meglio di cosa sto parlando quindi se andiamo a vedere ci sono diversi punti di contatto con questa parabola sia nella fase discendente quando bitcoin è sceso da 6.000 a 3.000 dollari e poi anche nella fase ascendente in questo momento siamo a 1, 2, 3 punti di contatto vedete qua 1, 2 e 3 in questo momento bitcoin si è allontanato dalla parabola ma se dovesse ritracciare e trovare supporto sulla stessa effettivamente questa possibilità sarebbe continuamente in gioco quindi un movimento possibile per bitcoin veramente incredibile ma lasciamo che bitcoin ci possa stupire sicuramente qualche mese fa con bitcoin a 3.000 non ce lo saremmo aspettati vicino ai 14.000 dopo toche settimane quindi in questo momento se bitcoin dovesse fare un movimento del genere potrebbe arrivare tranquillamente a 100.000 entro la fine di quest'anno quindi ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate se sia una realtà possibile o semplicemente fantascienza io personalmente voglio provare a crederci fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo episodio ciao